Mister, un bellissimo pubblico, una sgambata che l'ha soddisfatta? 4-3-2-1 il primo tempo, 4-3-2-1 il secondo tempo. Sì, assolutamente, stiamo portando avanti questa cosa fin dal primo giorno. Non sarà probabilmente l'unica, però è chiaro che bisogna cominciare a piccoli passi, nel senso che non creare nemmeno confusione, cercare di imparare bene le prime situazioni che stiamo lavorando. La squadra le sta ricercando in maniera esasperata, anche in partite complicate come queste, nel senso che giocando in uno spazio così piccolo, negli ultimi 30 metri, difficile trovare traiettorie, la squadra nonostante questo prova, insiste nel ricercare queste situazioni, quindi sì, sono assolutamente soddisfatto. Abbiamo visto i terzini, sia nel primo tempo che nel secondo tempo, molto alti e, novità tattica, le mezzali con il piede invertito, Caligara ad esempio sul centro-destra e Masini sul centro-sinistra. Sì, è una situazione che mi porta avanti da qualche anno, non lo faccio per forza, nel senso che è chiaro che dipende dalle caratteristiche che ho dei miei calciatori, per esempio Caligara secondo me è il piede invertito, è un giocatore molto qualitativo e quindi aperto può vedere più campo, più giocate, può andare al calcio più facilmente, quindi la scelta è prettamente per situazioni del genere. Come ha visto Gnaoré e tatticamente come lo inquadra? Mezza alla destra, sinistra, playmaker? No, secondo me Gnaoré è una mezzala, poi destra, sinistra, secondo me può essere indifferente per lui, è un giocatore che ritorna dopo un anno di inattività, ha lavorato molto bene nel ritiro di Casha, è chiaro che deve prendere il ritmo partita e quindi cerchiamo di portarlo al massimo del suo regime. Molto carico nella ripresa Dionisi, un bel gol, una bellissima azione nella rete di Re, come sta vedendo? L'attaccante Reatino. Lo vedo per come lo conoscevo, nel senso che anche lui ha fatto un ritiro molto buono, nel senso al di là della situazione che tutti conosciamo, che ha e non è l'unico, perché insieme a Ermo, a Falzerano hanno partecipato con grande professionalità al ritiro, con grande condivisione, quindi nessunissimo problema, al di là delle situazioni che poi si possono venire a creare da qui al 31 di agosto. Oggi out per Qualcacciacco, Duffizi e Falasco, come stanno, se non è nulla di grave? E su Falasco cosa ci può dire? Il ragazzo è totalmente mentalizzato su questa nuova stagione? No, il discorso di Falasco è un po' simile a quello dei ragazzi che parlavamo prima, anche se la differenza è che lui chiaramente è in una situazione che probabilmente pensa di avere qualche situazione di mercato, e quindi si è confrontato sia con me che con la società e stiamo considerando il futuro, cosa possa succedere eventualmente se uscisse oppure meno. Per quanto riguarda il fatto che non abbiano giocato oggi lui ed Uffizi, è solo a livello precauzionale, niente di grave. Siamo per entrare nell'ultimo mese di mercato. Per quanto concerne la difesa, si attende un portiere esperto, un altro terzino destro e, considerando 40 in uscita, un centrale, visto l'infortunio di Tabchar, possibilmente Mancino? Sì, vorrei raccontarti, ma hai già detto tutto te, ne sei stato molto preciso, comunque in linea di massimo sono questi i riferimenti. Portiere esperto, un terzino e eventualmente un quarto centrale uscisse 40. Si aspetta anche di vedere a giorni Samuel Giovane? È una trattativa che è aperta da un po', lo sapete meglio di me, vediamo se arriverà a buon fine oppure meno. Per centrocampo e attacco invece considera già la rosa buona, più che sufficiente per la stagione? Sì, ma probabilmente anche davanti potrebbe succedere qualcosa.